Musica Felegara, allora circa un anno fa la Camusso, adesso Landini, i segretari nazionali della CGL hanno attenzione per questo territorio. Martedì a Ventimiglia l'attenzione sarà però focalizzata su un tema importante, le povertà. Perché questa scelta di che cosa farete? Sì, martedì è una giornata importante. Sono veramente contento perché intanto il segnale di un'attenzione che arriva verso le periferie, verso il territorio d'Imperia, un segnale che arriva all'inizio perché Landini è stato eletto segretario da poche settimane, si può dire, dall'inizio di quest'anno e che proprio all'inizio venga a visitare uno dei posti più lontani e più difficili, io penso, per alcuni versi. È un'attenzione che non può che far piacere. Parliamo di povertà ma lo facciamo provando a fare un ragionamento che sia un po' articolato e che tenga conto di diversi aspetti. Perché non è soltanto una la povertà o comunque non è declinata al singolare, noi stiamo provando a fare un ribaltamento, a provare a trasmettere un'idea, un ragionamento che non esiste solo la povertà economica che è quella a cui tutti pensiamo quando si ragiona di povertà e la povertà economica peraltro non è una, ma che esiste la miseria, esiste la povertà più povera, quella a cui bisogna necessariamente dare delle risposte assistenziali. Nessuno lo nega, anzi è doveroso. Esistono poi povertà più sfumate e sulle quali servono risposte diverse. esistono altri tipi di povertà, dei quali purtroppo il nostro territorio è pieno, non facciamo eccezione. Penso alla povertà sociale per dirne una che poi a sua volta può essere declinata in tanti modi. Esistono contesti di povertà familiare, di famiglie difficili ma anche di quartieri difficili. Esistono situazioni di comprensori emarginati, scollegati dalle infrastrutture, dai trasporti, lontani da tutto. Per cui la povertà sociale ha tanti aspetti e esiste la povertà culturale, che non è una, è anche questa a tanti tipi. Io quando leggo e quando penso che in questo paese non si legge più un libro a testa all'anno in media e quando penso che la mia generazione, quella magliata dalle fake news e che si crede tutto, non riesce a discernere una notizia vera da una falsa, quando vedo che la principale fonte di informazione per un giovane d'oggi è Facebook e non si leggono più i giornali, sono tutti aspetti di una povertà culturale che esiste. Quando vediamo ancora abbandono scolastico, parlando in questa epoca è assurdo, è vero. Adesso ci arrivavo perché la provincia d'Imperi ha il triste primato di essere tra le province in Italia con un minor numero di laureati, è già un fatto preoccupante, ma soprattutto di essere in fondo alla classifica per numero di diplomati. Avere il numero di diplomati più bassi si traduce proprio nell'abbandono scolastico. Allora, sono tante sfumature, tanti tipi di povertà a cui dare risposta. Ma la CGL non ne parlerà da sola? C'è Maurizio Landini, segretario nazionale, che si confronta però, confronta con associazioni del territorio. Abbiamo costruito una rete e lo scopo è proprio quello di trasferire un messaggio che rispondere alle povertà non è un fine, è anche un fine ovviamente, dobbiamo farlo doverosamente, ma è a sua volta un mezzo, il mezzo per poter fare un'accoglienza sul territorio migliore. Cioè noi vorremmo creare un binomio che vada a smontare quello presentato dalla maggioranza delle letture oggi e da chi governa e da alcuni partiti di governo in particolare, che è quello che legano l'immigrazione alla sicurezza. Non c'è soltanto questo, si può legare l'immigrazione alla povertà e rispondere a questi tipi di povertà può favorire l'accoglienza. Se io riesco a intervenire sull'abbandono scolastico, sulla povertà culturale, sicuramente avrò fatto un lavoro che migliora l'accoglienza e l'integrazione sul territorio. Ne parliamo con le associazioni che insieme a noi, con gli uomini e le donne, che insieme a noi hanno costituito la Scuola di Pace, che è nata da poche settimane a 20 miglia, uno strumento che vuole parlare al futuro, che vuole mettere insieme chi l'accoglienza la fa sul territorio. Penso alla CGL, ma c'è la Caritas, c'è l'Arci, c'è la Spess, c'è l'Auser, c'è Penelope. Ci sono tanti uomini e donne di queste associazioni. Quindi non soltanto le associazioni, ma poi le cose funzionano quando ci sono le gambe e le teste. Quindi parliamo di persone in carne ed ossa, di uomini e di donne. E vogliamo creare un percorso permanente di formazione sul territorio. Cioè ripercorriamo un atteggiamento virtuoso, che è quello che nasceva l'anno scorso. Richiamavi prima la presenza di Susanna Camusso, proprio nella primavera dello scorso anno. Quando abbiamo detto ricominciamo da noi. Allora era declinato per il tema importante della violenza femminile. Oggi proviamo a ripercorrere quel percorso dicendo se vogliamo fare una migliore accoglienza dobbiamo ricominciare a parlarne e a farla da noi e far formazione a chi l'accoglienza la fa. Quindi creeremo un percorso di formazione per gli operatori di accoglienza della CGL, ma anche delle altre associazioni, la Scuola di Pace. Nasce per questo con tante iniziative culturali, presentazione di libri, presentazioni a teatro, di film. Insomma tanti registri culturali, tante iniziative che ci accompagneranno durante il proseguo di questo 2019. Toglio Marzo, domani assemblea a Genova. Il mondo dell'autotrasporto di nuovo si interroga, ragiona e pensa anche all'eventualità di un fermo del trasporto su gomma. Perché? Che cosa sta succedendo? Allora, sta succedendo che la maggior parte degli imprenditori nel settore trasporto è in sofferenza. Non ha più utili, il gasolio continua ad aumentare, le tariffe continuano a scendere, le ore di sosta, dato che la committenza non paga nulla, aumentano. Le banche ci sono addosso, i pagamenti stanno slittando a 120 e passa per i pagamenti, per le fatture da pagare. Attualmente noi sappiamo che negli altri stati europei, dalla vecchia Europa, per esempio in Francia, i pagamenti sono a 30 giorni e in Francia se non paghi a 30 giorni c'è il penale. In Italia invece va tutto bene. Questa qui è una legge europea che da noi non è stata applicata. Mentre ne vengono applicate altre che magari penalizzano il lavoro. Mentre ne vengono applicate altre che magari penalizzano il lavoro. Questa legge per esempio del pagamento a 30 giorni, cioè c'è una legge europea, però in Italia non viene applicata. Ma siete veramente pronti a un fermo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso questa assemblea fra l'altro oltre che da noi è stata organizzata dagli imprenditori del trasporto, i grossi, soprattutto i grossi che sono all'estremo. Io so per esempio che c'è Gavio che ha in programma il licenziamento di 120 autisti, o qualcosa del genere più o meno. E qua non si va avanti. Qua o si trova una soluzione pesante per risolvere queste problematiche o diversamente, qua siamo del gatto. Purtroppo Roma ci aiuta poco. Di conseguenza qua partiremo, come ha fatto Garibaldi, partiremo da Genova. Vediamo cosa riusciamo a fare. Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, la scorsa notte in uno scontro frontale fra due auto a Bordighiera. Ancora una volta teatro dell'incidente è stata la zona di Madonna della Ruota, fra la città delle Palme e Ospedaretti, già tristemente nota per questo tipo di episodi. I feriti sono due ragazze di 19 anni e una donna di 50 anni, che risulta la più grave in quanto ha riportato la frattura di un braccio. Tutti e tre sono stati trasferiti all'ospedale di Sanremo. Sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale e gli agenti stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del sinistro per risalire alle responsabilità dello stesso. Durante le operazioni di soccorso si sono formate lunghe code, sia verso Bordighiera che verso Ospedaletti. Don Stefano Caprile e Don Emanuele Daniel hanno coordinato insieme all'amministrazione comunale di Andorra questo progetto per evitare gli sprechi, ecco Don Stefano, evitare gli sprechi e aiutare chi ha bisogno, chi non si può permettere di sprecare cibo. Certamente. Abbiamo chiamato questo progetto meno spreco, più felici, perché rende subito contenti e le persone che ricevono, ma anche le persone che donano, che si sentono utili. Tutto nasce da una fotografia che mi ha inviato un nostro villeggiante e che aveva ritratto in un cassonetto vicino a un panettiere della focaccia buttata via a fine giornata. Con grande dispiacere, perché effettivamente c'è molta gente che ha bisogno e bisogna evitare questo tipo di spreco. È perciò che mi sono rivolto all'amministrazione, alla parrocchia di Santa Matilde, dove ha sede la Caritas, vicariale, diciamo, andorese, e perché potessimo renderci conto se era possibile ovviare a questo tipo di spreco. Effettivamente da quella fotografia è nato questo bellissimo progetto Meno Spreco, più Felice. Un progetto che coinvolge tanti volontari, un progetto grazie al quale Don Emanuele Donare diventa anche, usiamo una brutta parola, ma pratica, conveniente, perché i commercianti che non spregano ma che donano il cibo avanzato potranno ottenere uno sconto sulla Tari, che di questi tempi va anche bene, no? Esattamente. Diciamo innanzitutto che conviene collaborare tutti quanti insieme e quando si può, si può vedere come l'amministrazione comunale ha cercato di incentivare un tasto dolente, quali sono le tasse, per contribuire al fatto di aiutare soprattutto nello spreco. Innanzitutto per coloro che sprecano il cibo, ovvero sia c'è un disavanzo, allora il Comune permette uno sconto percentuale sulla tassa della Tari, ma nello stesso tempo tutti coloro che vogliono donare possono donare perché le famiglie bisognose hanno sempre bisogno di un po' di tutto. Certo, e naturalmente gli sconti saranno legati in base a quanto i commercianti effettivamente daranno. Al peso, di fatto, qui intervengono i volontari che peseranno e controlleranno il donato e verificheranno e poi ogni mese verrà portato in comune. C'è un gioco forte tra chi dà, chi distribuisce e chi riceve. E il fatto di diventare tutti più felici è proprio perché in questo non sprecare si tratta anche non solo dal punto di vista materiale, ma anche del tempo, perché la più grande povertà che noi abbiamo è la solitudine. Abbiamo persone che hanno tanto tempo eppure non si rendono conto della felicità che possiamo dare anche col nostro tempo. E le persone che vengono a chiedere hanno veramente bisogno, perché basta niente per perdere il lavoro, stare male e quant'altro. E il gioco dei volontari subentra nel prendere il cibo, metterlo nel posto giusto, distribuirlo, e su questo c'è una intenzione di formare i volontari, e poi tutto quello che non viene distribuito alle persone si è già deciso di darlo agli animali, sicuramente cavalli, cani, gatti e quant'altro, ma anche i pesci, perché non c'è niente di più biodegradabile che non il cibo. E quindi questa cosa qua ci fa piacere, nel senso proprio di entrare in una catena alimentare che non è soltanto umana ma anche ambientalista con gli animali. L'obiettivo è veramente quello di toccare il nervo della felicità, perché non soltanto ricevere ma anche chi dà e chi collabora può diventare più felice. Meno poveri, non è semplicemente la povertà materiale, non soltanto tristi ma più felici. Il piaggio è un valore tecnologico assoluto e relativo, cioè assoluto perché è una delle nostre industrie Liguria più tecnologicamente avanzate e anche di rilevanza numerica, ma fa parte di un comparto, quello della difesa, dove non si può lasciare spazio all'improvvisazione. È un comparto, quella difesa, che deve essere progettato con una visione industriale luridecennale con una visione tecnologica anche chiara. Dove vogliamo andare? Cioè chiudiamo tutto, apriamo dei grandi campi di margherite, seguiamo le farfalle oppure se non vogliamo fare questo dobbiamo investire. Investire in visione, investire in management e investire in un chiaro assetto di governance aziendale, perché adesso Piaggio è appesa in un limbo che non si capisce dove sta, con chi sta e dove sta. Ma io non mi voglio limitare solo a Piaggio. In Liguria abbiamo delle eccellenze del settore della difesa, che sono l'Otomelara, l'MBDA, Fincantiere è un altro settore ancora, però abbiamo un sistema, la tecnologia nella difesa, una ricaduta, un moltiplicatore per 10, per 20, non sappiamo quanto, ma un moltiplicatore alto sull'economia del resto della nostra regione e della nazione. Quindi a questo punto mi sa che i ministeri competenti, Mise e Difesa, devono un attimino sedersi intorno a un tavolo e capire cosa vogliono fare da grandi, perché per un po' abbiamo scherzato, il tempo adesso non è più una variabile indifferente e si stiamo avvicinando, tornando al caso di Piaggio, a un punto di non ritorno. Tra i tanti problemi che affliggono l'Italia, un altro è di non poca rilevanza e l'ondata di richieste di portodarmi che in questi ultimi tempi sarebbero state fatte alle diverse questure italiane. In un certo senso c'è una corsa al comprare pistole e fucili all'insegna del difendiamoci da soli, facciamoci giustizia da soli. La nuova legge sulla legittima difesa metterà sicuramente sul tavolo non pochi problemi e il vivere civile diventerà forse un pochettino a rischio, diciamo un pochettino e speriamo che rimanga solo un pochettino. Qualcuno avrà il grilletto facile e quando si ha un'arma acquistata con l'intento di difendersi, nel bene o nel male, si dovrebbe usare, altrimenti spara prima l'altro. Andremo incontro a duelli tipo Far West, ma speriamo che non sia tutto relegato alla fantasia e alla speranza. Alla speranza c'è sempre che non accada mai nulla di grave. L'armarsi ha messo in crisi il Comune di Trieste che con una delibera del Consiglio Comunale, seppor non all'unanimità, ha deciso di armare i vigili urbani, cioè di dare la pistola ai vigili che girano per la città. Molti hanno accettato di buon grado, altri hanno fatto barricate rifiutando l'arma e definendosi agenti obiettori. Tutto concepibile, tutto logico, se il vigile urbano, vigile lo dice la parola stessa, deve vigilare, oggi poliziotto urbano non dovesse fare i conti con malandrini disseminati in ogni angolo, in ogni luogo della città. Giusto rifiutare l'arma, ma allora non fare il poliziotto. Faccia l'impiegato del catastro, faccia l'impiegato dell'anagrafe. Anche a dirigere il traffico si può essere a rischio, il rischio di trovarsi un automobilista pazzo che tira fuori la pistola per una questione di sorpasso o di parcheggio. Ma dove è finito il buonsenso? Certamente non nel mettersi in tasca una pistola. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS